Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma sulla Fipilì. Per il cantiere aperto per i lavori di manutenzione al viadotto del Turboni. Un chilometro di coda in direzione mare tra Ginestra, Fiorentina e Montelupo, Fiorentino. Rallentamenti in direzione Firenze tra Empoli Est e Ginestra. Ci sono poi rallentamenti in direzione Firenze tra Scandicci e Firenze Scandicci per traffico intenso. E code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. A causa di una frana è stata chiusa la strada provinciale 556 Londa Stia al chilometro 4 più 500. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!